ci rilascio? no ma è impossibile è ancora lì? è passato lì è passato lì ma è un pollo è di poca è spogliato è spogliato è un pozzo è che lo metodo che è il foglio è statato è intenzionato sta passando Questo è il terzo diretto. Non si non mi sono nascita. No mi sono nascita la testa. Ma è arrivato! Non, non si, non. Ma sono riuscite a sentire il nostro loro pistone. Chi parla a destra. Grazie. Grazie. Grazie.